Per questa parte Davide sarà solo all'inizio perchè deve andare a mangiare Ma anche no C'è vergia che però prendiamo dopo perchè per il momento non è indispensabile E andriamo così nel nostro bel ristorante Cazzo si è bloccato o no? E' caduta una chiamata porco cane di merda Va bene come ho detto Davide questo video stava solo all'inizio Quindi lo continuiamo da soli Aiuto con lo chiamato accompagnati ma in questo caso eravamo ben accompagnati Dai comunque vediamo di fare un bel pezzo di questo gioco in questa parte Non mettiamoci a dire cazzate Mario Allora per ora ci prendiamo questo Che è una guida Poi Poi salviamo perchè troppo qua c'è una parte molto delicata nel gioco E andiamo contro quest'armadietto Prendiamo Il grimaldello Il grimaldello Ci sono uni forse Sì è sapri E così prendiamo il piede di porco Ma lo chiamo io Piede di porco Ora andiamo qui alla botola Spero che mi stia piacendo questo let's play Lo sto facendo in modo più rapido possibile Che voglio passare da altri giochi anche Ho molti giochi da fare Adesso qui viene un filmato abbastanza bello che vi faccio vedere perchè è anche importante per il gioco Abbiamo la botola Non succede un cacchio Vediamoli il nostro amichino Questo filmato bisogna vedere perchè è abbastanza importante C'è una domanda Si è tontino forse Cosa succede su porco cane di merda? Si è crescita del gioco? Aoi lo stai mappinando No Non si è crescita del gioco Comunque salta il filmato Perchè si sta crescendo tutto Di salta il filmato E andiamo avanti Per favore dai Per farmi i resti brutti scherzi In pratica ora entra Nemesis E ora c'è una scelta da fare Ovvero affrontare Nemesis oppure scappare Noi l'affrontiamo Perchè si questa cosa bisogna farlo Affronta Nemesis Allora In pratica lanciamo così Li lanciamo una granata addosso E lo lanciamo mezzo morto per terra Cosa devono fare accessivamente bene? Infatti Lo stiamo facendo zumbare le cervelle in aria Anche se non morirà Magari morirà fin meglio che ciao ciao E dai basta fare la battuta Andiamo avanti Vediamo ci sono filmato Prima che lo fanno appunto in bocca Bene ora andiamo a vedere cosa è successo Allora questo Nemesis si è stordito per terra Ci prendiamo i pezzi della pistola Credo Credo che sia questa sia la punta Adesso viene un pezzo che io ho sul cazzo La buffa del Nemesis Ecco ribattona Questa battona Tanta voglia di morire Lo giuro lo giuro Non ho mai visto nessuno con una Concezione della vita così bassa E' la seconda rubi Pikmi Questa è la tua voglia di morire Ma brutta ce la voglia di morire Ma ce ne importa un cazzo che è filmato Non sono capace dovevo scappare come un porco Vai 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 Puttana truia scappa Se lo poi ci fanno un culo Entra nella porta Si ma che qui ci darà un baul Per prendere gli oggetti Perchè dobbiamo prendere la gemma E dobbiamo lasciare qualcosa In pratica c'è un po' di roba da fare ora Qui dentro vediamo Si 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 Eh no c'è di roba da fare Prima di tutto prendiamo la manovella Che ci servirà Ma fai subito battona Che poi c'è il nevesis Che ne hai scrazzo fuori Andiamo al baul Lasciamola Questo Il coso che c'è sui nemesis Lasciamo anche la manopola E basta La no 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 Che basta e basta Basta un bacio su cazzo Ma viaggiamo Esatto Ora ho un brutto presentimento per quando usciremo Di salvo su una caslotta Si ora c'è il nemesis Ora c'è il nemesis Ora c'è il nemesis Mi scommetto di cazzo che ora c'è il nemesis Ora c'è il nemesis Ora c'è il nemesis Quindi bravo arrivi a scappare Ora c'è il nemesis Ragazzi raga raga Non c'è il nemesis Quindi scappa lo stesso Solo perchè non c'è il nemesis Devi scappare lo stesso Scappa lo stesso Non me ne importa dove c'è Su vabbè Ora qui c'è il nemesis Ora qui c'è di sicuro il nemesis Quindi calma Oh c'è il cuore a mille miliardi Ora qui c'è il nemesis C'è il nemesis C'è il nemesis C'è il nemesis Sto cazzo Cazzo sto Corri Corri C'è il nemesis Corri przed Corri C'è il nemesis C'è il nemesis Nemesis Entra nella porta, cazzo di merda, entra nella porta, vado una puttana, entra in qua, cazzo di porta, brava, cazzo. Ok. Quando lo spazio abbiamo qua dentro, che lo spremi, come stiamo messo in energia, stas, stas. E invece anche il tempo. Se non vedete il Davies, giuro su Dio che strappo gli scheletri sospetti e l'espli. Non scherzo, se non vedete il Davies, mi fa prendere un corpo e i sospetti e l'espli, perché mi si sta rompendo il cazzo. Mi si sta facendo girare le palle e prendere un infarto di cuore. Diamine. E sali, Zluvia. Schiacciamo il cazzo di pulsante, sì. Bravo, vino che capisci. Schiacciamo il cazzo di pulsante, schiacciamolo. Sono come cazzo, fai a passare? Sì, quando non ho preso una cosa, non ho preso una cosa. L'ho foto sul distributore. Forse era meglio se non lo prendevo. Forse, dico. Sicuramente era meglio se non lo prendi. Però voglio evitare altri infarti, voglio spedere questa parte il più possibile. Cazzo di merda! Oddio! Sì. Ora cazzo! Ma la paura del Nemesis, senza Davide, è un casino fare la storia XB. Per il Zerano forse era meglio si filmpavo Zelda, forse. O sarà meglio si filmpavo un paio di episodi di Zelda in questo tempo. Sì, vai racconto. Ora qui c'è la Gemma verde. Yes. Sì. 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 La prossima zombie! Sì. 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 Sì.